... Benvenuti a questa nuova edizione in diretta di TR24 Sport. Parliamo immediatamente di calcio con i giocatori del Bologna che hanno convinto i dirigenti Rosso-Blu. Basta con il ritiro e questo dopo la vittoria ottenuta contro il Crotone in Coppa Italia. Domenica però c'è pur sempre l'Empoli. La vera prova del 9 e i Rosso-Blu al Castellani non avranno più alevi. Vediamo. Ora dovranno dimostrare di mantenere le promesse fatte la dirigenza e i tecnici dai tifosi. Parliamo dei giocatori del Bologna che dopo la vittoria contro il Crotone ed il passaggio del turno in Coppa Italia, regalandosi la Juventus negli ottavi di finale, hanno ottenuto che il ritiro punitivo deciso dopo la batosta di Genova terminasse all'istante. La squadra avrebbe dovuto restare in ritiro fino alla delicata sfida di domenica pomeriggio sul campo dell'Empoli che in un senso o nell'altro si rivelerà determinante per le decisioni che sia in tema di guida tecnica che di mercato dovrà assumere da lì a breve la società. Nell'ultime ore però la squadra capitanata dai veterani da Costa, Gemaili e Poli, cioè dei tre più ascoltati, nello spogliatoio di società, ha chiesto alla società stessa di far rire dietro Font, dimostrando in quel caso una forte assunzione di responsabilità. La di Claudio Fenucci ha dato il suo assenso, i giocatori hanno potuto quindi rincasare già malacolo di sera. Ora, se il match del Castellani era già sulla carta, un appuntamento denso di motivi, con l'assunzione di responsabilità dei giocatori, mette questi con le spade al muro, perché per mantenere la promessa di Gemaili e compagni servirà a fare bene sul serio e portare a casa punti, non tentare di cavarsela come è successo più volte già in questa stagione. A meno che non si valuti il Crotone, un avversario talmente importante da cancellare come un colpo di spugna, tutti i problemi dimostrati sarebbe una valutazione talmente crassa che nemmeno una società sproveduta si potrebbe permettere. Parliamo anche di Serie D, dopo il rapido tiremolla tra Forlì e Cesena che ha preceduto il suo sbarco in Rival Savio. Simone Tonelli si è già messo a disposizione dei bianconeri, debuttando nel corso del match col Monte Giorgio. Ora l'attaccante esterno vuole guadagnarsi il proprio spazio nelle rotazioni di mister Beppe Angelini. Vediamo. Il ritorno di Simone Tonelli a Cesena. Un momento lungamente atteso che adesso l'ex giocatore di Sant'Arcangelo e Matelica si vuole godere nella sua interezza. Ho fatto qui quattro anni di settore giovanile a Cesena, quindi poter tornare è un motivo di grosso orgoglio, perché è un sogno che si avvera, perché ogni ragazzo spera di poter esordire con la maglia dove ha fatto il settore giovanile e tutto. E io quella volta non ci riuscivi, quindi tornare è sicuramente un motivo di grande felicità. Tutt'altro che agevole il passaggio dal Forlì al Cesena, come ricorda anche Simone. Sinceramente io Forlì ho spostato un progetto quando c'era un direttore, Cangini, che stimo moltissimo, e il mister Campedelli che mi hanno voluto fortemente in estate. Quando sono arrivati Galassi e Protti c'era un rapporto penso di poca stima tra me e il mister. Purtroppo dopo è successo un po' di casini che adesso penso si siano risolti bene. Ora Tonelli vuole dare il proprio contributo al Cesena, anche in termini di gol. Gli altri anni ho sempre segnato i miei gol, sia in queste categorie che in Lega Pro, quindi devo cercare di ritornare il gol e di sbloccarmi così poi si può vivere più sereni la settimana. E l'ultimo colpo di mercato del Cesena riguarderà ancora l'attacco. A dare manforte al rientrante Ricciardo sarà la punta pugliese, Ciro De Angelis, che il club bianconero dovrebbe ufficializzare nei prossimi giorni. Facciamo allora il punto della situazione nel servizio. Con l'innesto ormai sicuro della punta Ciro De Angelis dal Monopoli, il mercato del Cesena si avvia alla rush finale per quanto riguarda la sessione di dicembre, dedicata alla Serie D. I colpi Biscomi, Fortunato e Tonelli hanno già prodotto risultati più che apprezzabili anche sul Prato Verde di Gioco, comportando però le cessioni di Davide Bisoli al Classe, Claudio Cola al San Marino e Apostolos Sticas al Mezzolara. Ci sono ancora qualche ragazzo che è in sofferenza, che gli abbiamo parlato, che nessuno li manda via, però devono sapere che magari sono quelli più sacrificati. Non facciamo i nomi, ma i ragazzi lo sanno già perché noi gli abbiamo parlato a tutti. Il capitolo Under è sempre al centro delle attenzioni del direttore sportivo, anche se tutte le valutazioni sono subordinate all'aggiornamento sulle condizioni di Andrea Zammarchi, su cui il Cesena continua ad avere grandi aspettative. Ce ne dobbiamo ancora guardare qualche anno, soprattutto sui 2000, perché non siamo ancora completi, quelli che sono arrivati ancora non possono giocare, ci sono qualche problema, stiamo trattando anche qualche giocatore ancora in giro, soprattutto sui giovani. Tutto dobbiamo vedere questa settimana o la prossima la risposta di Zammarchi, che per noi è importantissima e speriamo che sia positivo anche questo, che lo abbiamo almeno il giorno di ritorno. Ci occupiamo anche di basket e della stagione dell'Uni Euro 4 League che vivrà un autentico punto di svolta nella sfida che i biancorossi disputeranno domenica nella tana della De Longhi Treviso. Alla Palaverde si sfideranno dunque le due inseguitrici della fortitudo tornate a stretto contatto con Bologna, dopo i successi ottenuti nei posticipi della nona giornata di Serie 2. Sentiamo. Soffertissima questa partita, però è una partita vinta. Assolutamente, siamo contentissimi, abbiamo allungato la striscia e non possiamo chiedere di meglio. Piacenza vi ha messo in difficoltà con la sua velocità e la sua fiducia, quindi non è stato semplice ribaltarla. Dove avete trovato le risorse per farlo? Piacenza sapevamo che fosse una squadra con tanta fiducia, ha messo il bastone tra le ruote a tante grandi, noi siamo, la nostra forza è sempre che siamo uniti e che riusciamo a trovare sempre delle forze necessarie per oltrepassare gli ostacoli. Partite così tirate, che fiducia vi danno per il futuro? Assolutamente tantissime, come hai detto a te, tutta fiducia per noi, quindi siamo contenti, ti posso dire questo. Domenica allora andate a Treviso, Treviso ha vinto, per cui che match vi aspettate? Durissimo, noi ci arriviamo come al solito, pronti e ce la giochiamo. Cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo anche di pattinaggio e del riminese Matteo Guarise, che questa notte alle 5.30, ora italiana, debutta nello short program a Vancouver con la bergamasca Nicola Della Monica per la finalissima del Grand Prix. Una prima volta storica per l'Italia del pattinaggio che mai era riuscita a qualificare una coppia in questa competizione, che rimane una delle più importanti a livello mondiale. La gara di Vancouver sarà l'ultimo test di prestigio internazionale prima dei campionati europei e mondiali, in programma nel prossimo anno. E proprio su questo evento è dedicata l'apertura della Corriere di Romagna. Vediamola, la sfida di Guarise al resto del mondo. Il riminese e Nicola Della Monica nella notte italiana saranno sul ghiaccio di Vancouver per la finalissima del Grand Prix. E poi anche si parla di basket, l'unieuro che si prepara per Treviso a petto in fuori. E per il volley la Superlega, Consar, il ritorno dell'ex Martin Vanguardere. Focalizzato invece su quello che accadrà questa sera nella big match del campionato di Serie A. Ecco l'apertura del QS per il resto del Carlino. Sfida mondiale. E vediamo proprio la foto di Mario Mangiukic e Ivan Perisic. Stasera Juve-Inter alle 20.30. Match seguito in tutto il pianeta. Con quattro giocatori reduci dalla finale di Russia. La riprova dunque della crescita del nostro calcio. E parliamo proprio di quest'ultimo argomento. Lo facciamo grazie all'opinione di Luciano Pocci. Sentiamo. Ritorna il campionato e ritorna con una partita che potrebbe essere davvero una svolta in un senso o nell'altro della storia del campionato 2018-2019. Anche se a dire il vero io credo e ribadisco ancora una volta, così come sostengono del resto molti commentatori, che il campionato può perderlo solo la Juventus, è chiaro che questo Juventus-Inter è uno scontro che tiene un po' con il fiato sospeso, sia una tifoseria che l'altra. Perché è ovvio e sarebbe quasi inutile ricordarlo se l'Inter dovesse vincere e il Napoli che affronta il Frosinone dovesse a sua volta conquistare i tre punti andrebbe a meno cinque dalla Juventus. Ed è sicuramente, e diventerebbe sicuramente un altro campionato rispetto al meno otto attuale. E' chiaro che se invece non dovesse arrivare il colpaccio dell'Inter, si rimarrebbe così e forse si svilirebbe completamente l'attesa per il campionato 2018-2019. Quindi tutti lì saranno centinaia di milioni in tutto il mondo a vedere questa partita, non ci resta altro che restare lì, ma il discorso è sempre quello. Solo la Juventus può perdere questo campionato. È tutto allora per quanto riguarda questa nostra edizione. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.